Niente, è successo che è venuto un controllo, abbiamo fatto un errore che abbiamo spostato sta pedana perché con i permessi eravamo a posto, con i decibel era a posto, invece abbiamo spostato la pedana, non era più a posto. Quindi insomma comunque in buona fede. Sì, 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 in buona fede, in buona fede. Quelli che c'erano dentro erano tutti tesserati, erano anche gli altri club che c'erano qui. Secondo voi da dove è arrivato questo controllo? Ah, c'è stato qualcuno che ha fatto un esposto e lo sappiamo chi è. E quindi le vostre attività forse possono dare un po' fastidio? No, non fastidio, per andare avanti abbiamo i permessi tutto regolare, ce li abbiamo, solo che il palco non lo dovevamo spostare, tutto lì. Comunque il comune vi ha dato una grossa mano in tutte le vostre attività? Ci hanno aiutato un bel po' loro, sia Massimo, l'assessore, la Brunori, il signor Fossi, ci hanno aiutato tutti, pure da andare avanti tranquilli.